Allora, l'acustica qua non è delle migliori ma credo che sia uno dei posti più belli per raccogliervi, uno dei posti più belli della nostra città dove facciamo qualche volta anche le riunioni del Consiglio Comunale. Io sono molto contento di darvi il benvenuto nella nostra amministrazione, è stata una sfida che abbiamo fortemente voluto, anche quando tutti ci dicevano fino a pochi giorni fa che questa cosa non si riusciva ad ottenere, che era complicata farla, che era impossibile, che era difficile, noi ci abbiamo fortemente creduto. Invertendo la rotta che in questo momento sembra forte nel Paese, in cui non si debba assumere, non si devono garantire i servizi pubblici, si deve privatizzare, si deve fare una spending review selvaggia, noi abbiamo invertito la rotta, ci siamo assunti le responsabilità forti, io me ne sono sempre assunte nella mia vita quando ho pensato che delle cose si potevano e in alcuni casi si dovevano fare, noi abbiamo voluto dimostrare che il Comune di Napoli investe nelle risorse interne, investe nel pubblico, l'abbiamo fatto con l'ambiente togliendo gli appalti esterni ai privati, l'abbiamo fatto con il patrimonio immobiliare, l'abbiamo fatto con l'acqua, l'abbiamo fatto con la scuola, con le maestre, l'abbiamo fatto con il trasporto e l'abbiamo fatto con voi, siamo gli unici in Italia che l'abbiamo fatto e per questo veniamo anche bombardati ogni giorno, ma noi abbiamo bisogno di adrenalina per non distrarci mai. Poi scusate, apro e chiudo una parentesi ogni giorno, apro i giornali e vedo che persone che noi abbiamo allontanato perché non ci volevano far rispettare la Costituzione, che per trovare uno sfogo personale vanno all'autorità giudiziaria e trasformano la dialettica politica in battaglia giudiziaria, è una vergogna, io ho fatto il magistrato, è esattamente questo l'uso politico della giustizia, cioè che persone per trovare in qualche modo una propria soddisfazione personale di fronte a un fatto che loro possono anche ritenere ingiusto, per carità, sul piano personale, è chiaro, chi viene mandato via come assessore o come direttore generale perché non è in grado, è chiaro che non sarà contento. Io sono stato eletto per portare avanti un programma, non è che se uno mi dimette un ostacolo davanti, mi devo fermare. Mi dispiace che i magistrati siano costretti a occuparsi di queste cose, invece ci sono tanti problemi seri nella nostra città. Io mi auguro che voi sentite quanto sia importante questo passo. Noi non ci possiamo consentire di interpretare la funzione pubblica come una funzione meramente burocratica, non ci possiamo consentire di limitarci a fare il compitino, vado a fare le mie 6 ore di lavoro, le mie 8 ore, vado a fare… no! Oggi Napoli ha bisogno di persone che credono nell'amministrazione pubblica, credono nella città, credono nelle funzioni che voi andate a esercitare. Quindi io da voi mi aspetto, oltre che la competenza professionale, consentitevi, mi aspetto una grande passione per la nostra città. Di competenze ne abbiamo, ma ho visto gente molto competente che non aveva un briciolo di passione per la nostra città. Non mi interessano queste persone. Mi interessano persone competenti che la mattina si svegliano e sono orgogliose di fare qualcosa, anche qualcosa di piccolo, perché anche aggiustare un tondino, anche aggiustare una iola, anche sistemare una fogna, anche fare bene il poliziotto municipale. Per me sono grandissime cose, non piccole cose. Dobbiamo mettere in campo un grande spirito di squadra. Io ci sto sempre, faccio i miei errori, perché ovviamente lavoro 18-20 ore al giorno, certe volte sbaglio, certe volte faccio bene, però abbiamo una grande passione, una grande abnegazione e consentitemi una grande onestà che di questi tempi non è una cosa proprio da sottovalutare. Quindi noi siamo felici di questo giorno, siamo felici perché l'abbiamo fortemente voluto. Immagino come siete felici voi. Alcuni di voi li ho incontrati anche in un passaggio abbastanza delicato di qualche giorno fa, vi dissi che dovevate avere fiducia. Bisogna essere sempre fiduciosi. Quando si fanno battaglie in cui uno è convinto di stare dalla parte giusta, anche quando viene il vento contrario non devi abbassare la schiena, perché qua il vento contrario è continuo. È tutto in salita, però è tutto più bene, perché quando raggiunge un obiettivo nessuno te l'ha regalato, a cominciare dalla città di Napoli. A Roma gli fanno una legge dietro l'altra, a noi ce le fanno le leggi, ma ce le fanno per metterci in difficoltà e noi scavalchiamo anche gli ostacoli. Sto venendo da una conferenza stampa sportiva, ho detto che ormai posso avere la melaglia olimpica per il corso ostacolo, che è sicuramente la disciplina in cui maggiormente mi sono caratterizzato in questi due anni, devo dire anche prima, per la verità, purtroppo, ahimè, mi sono anche un po' stancato di saltare, devo dire la verità, spero di poter fare un po' di fondo in piatura. Cioè ogni tanto, e speriamo che voi ci possiate dare una mano, siete giovani tra l'altro, mi pare, più o meno, che creo, sicuramente più giovani di me, quindi ci sono energie fresche, persone che hanno l'entusiasmo, io poi avrò un modo anche di conoscervi maggiormente singolarmente, questo è un saluto collettivo di benvenuto e di gioia in questo momento, poi con alcuni di voi mi confronterò, ci vedremo, so che siete stati assegnati a servizi importanti, è un momento significativo per la città di Napoli, io credo che si deve dare anche risalto a tutto questo, che in un momento di spending review, becela certe volte, noi riteniamo che si deve invece investire sulle risorse pubbliche, ovviamente questo significa che chi lavora nel pubblico, chi ha una funzione pubblica si deve meritare quel posto, cioè deve finire la stagione che siccome ho vinto il posto pubblico, io dal giorno dopo posso fare quello che mi pare e questo ovviamente vale per tutti noi, vale per i lavoratori, vale per i sindacati, oggi il posto pubblico è tra virgoletto, sono termini improprio, ma è un gran privilegio nei confronti di chi sta in mezzo a una strada e ha le stesse competenze vostre e che magari non è riuscito come voi, quindi noi dobbiamo dimostrare che ci siamo anche per loro, che quindi dobbiamo indossare la divisa di appartenenti all'amministrazione pubblica come se fosse una missione nell'interesse di tutti i napoletani, io un po' provocatoriamente ho lanciato l'altra volta l'idea Napoli città autonoma, significa che mi sono convinto in questi due anni che noi ci tiriamo fuori da solo, non ci aiuterà, questo è un qualcosa che ci tiriamo indietro da 150 anni, però dobbiamo finire di lamentarci, perché motivi di lamento ce li abbiamo ognuno di noi ogni giorno a decine, ma non serve a niente, campiamo peggio noi dentro e non risolviamo nemmeno un briciolo di un problema, quindi impegniamoci tutti per migliorare innanzitutto qui l'amministrazione e poi la città, quindi noi siamo a completa disposizione, voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno contribuito affinché voi possiate, affinché si è potuti giungere a questo risultato così importante, la struttura politica attraverso gli assessori, in particolare l'assessore personale qui presente, voglio sottolineare soprattutto il capo di gabinetto, i direttori generali, i vice direttori generali, insomma un po' tutti che ci hanno effettivamente creduto, che hanno firmato e chiudo questo saluto nel ricordare dei momenti molto difficili, ma che per me sono stati forse i momenti più belli, dove l'ho deciso in una notte alle due, quando tutti quanti mi dicevano che io dovevo chiudere perché Monti aveva deciso la spending review, dovevo chiudere gli asili nido della mia città e c'era l'ex direttore generale al quale oggi i giornali hanno dato grande lustro e pubblicità, lustro dico tra virgolette ovviamente, che mi diceva che non si poteva fare, che io dovevo chiudere le scuole e quella cosa non si doveva fare, mi sono guardato allo specchio, mi sono confrontato al mio capo di gabinetto, ho letto le leggi, le circolari, le delibere, ho detto il contrario, si deve fare, perché le scuole si chiudono quando c'è la guerra, quando c'è il colera, quando c'è il terremoto, le scuole non si chiudono della spending review, ho preso carta e penna, ho scritto la delibera, mi possono anche processare, me lo vado a fare, ma che fa tanti chili processa, almeno me ne faccio uno in cui dico processate, io mi vado a difendere, voi ridete, però guardate che la pena e poi io la subisco, è pesante, però io ho trovato giusto firmare 300 contratti alle maestre per aprire le scuole, bene, mi sono preso il procedimento, me ne prenderò probabilmente altri, sono stato archiviato e la più grande soddisfazione è stato leggere in un provvedimento giudiziario che noi avevamo adottato una delibera costituzionalmente orientata che salvaguardava il diritto primario all'istruzione pubblica, credo che non c'è modo migliore, ma lo dico senza presunzione con umiltà di far vivere la Costituzione Repubblicana per cui c'è stata gente che è andata in galera, è stata ammazzata per consentirci a noi di essere liberi e avere dignità, chi si nasconde dietro alla burocrazia per me se ne può anche andare e io rivendico con orgoglio che questa gente sia andata a rifugiare in un'aula giudiziaria per non dichiarare pubblicamente di aver fallito. Auguri e buon lavoro!